Musica Mercoledì 24 marzo, Santa Caterina di Svezia. È l'ottantatresimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 282 al termine. Il sole sorge alle 6.06, tramonta alle 18.29. La luna sorge alle 13.09, tramonta alle 4.05. Viene posta la prima pietra della Basilica dei Serviti in Cannaregio. Nel monastero, aggregato alla chiesa, visse il celebre Paolo Sarpi. La basilica verrà demolita nel 1813 su ordine di Napoleone. Le previsioni per domani. Cielo da sereno a poco nuvoloso. Nelle ore più fredde possibili e locali nebbie su zone meridionali e costiere. Le temperature aumenteranno in modo moderato riguardo ai valori minimi e lieve riguardo a quelli massimi. Ilandezza Sarpi è alta lunga. Nelleم città della tua Leietr cierto è diedera.